Io faccio anche un appello, come dire, alla città, anche agli altri colleghi imprenditori, perché è un'iniziativa che è nata, come dire, anche sotto traccia, con un profilo anche basso, che però, Nettantam, che questa settimana e questa settimana e mezzo è riuscita a ottenere importi piuttosto importanti, faccio un appello affinché si possa continuare. Con l'importo a disposizione, abbiamo già avuto delle indicazioni di macchinari da acquistare, e si stanno già muovendo, c'è un gruppo di lavoro che si sta preoccupando di contrattare le aziende che producono questi macchinari, dipenderà da quanto riusciremo ancora a raccogliere per poter fare ulteriori investimenti. Io ho fiducia, io ho fiducia, io ho fiducia che ne usciremo con un modello migliore a livello europeo e probabilmente il modello anche Italia, che all'inizio forse anche a livello internazionale è stato un po' forse anche quasi deriso, ma mi sembra sia oggetto ora di imitazione da parte di tutti. Io ho fiducia che ne usciremo. In questo momento certamente bisogna stare in difesa. Se la città dovesse trovarsi in estrema difficoltà, la fondazione pensa ad un altro fondo straordinario per la città? Valuteremo. Abbiamo messo in considerazione anche questo, di prendere in considerazione anche eventuali nuove emergenze. Sì, abbiamo credito. Noi ci saremo. Per quelle sono le nostre possibilità, ma noi ci saremo. Grazie.